per relazionare ad un livello più profondo che cosa puoi fare non basta la spontaneità andare incontro a qualcuno oppure evitare qualcuno perché non viene voglia di frequentarlo non si possono creare dei rapporti umani degli accordi e una società se non siamo capaci di relazionare a un livello profondo e al tempo stesso un livello lungimirante che cosa puoi fare ho già risposto a questa domanda importantissima l'ho spiegato nei miei libri nei miei video oggi voglio leggerti una frase tratta da questo libro osserva capisci agisci volume 5 con le domande di come la vita quando ti sorride a pagina 42 c'è un passaggio che spiega proprio come relazionare ad un livello più profondo relazionare dimostra quanto abbiamo capito del passato degli errori commessi dei successi da ripetere e dell'enorme quantità di dati della tradizione che ancora tutti in quanto umanità abbiamo trascurato la storia dell'umanità e la storia di ogni individuo sono fatte dalla successione e dal coordinamento di azioni e le azioni derivano dal relazionare per disporre le risorse e già quando facciamo qualche cosa significa che abbiamo un pensiero abbiamo l'intuizione che ci dice che dobbiamo disporre meglio le risorse ma tutto questo anche se nasce in modo autonomo nella nostra mente ha sempre come finalità il relazionare con gli altri quando tu disponi qualche cosa anche in casa tua lo fai perché vuoi sopravvivere o vivere meglio ma non per stare lì dentro casa tua lo fai perché vivere ti serve per poter fare di più quindi il fare di più ti porta necessariamente a relazionare con gli altri e come puoi relazionare in un modo più profondo te l'ho detto devi considerare il passato devi considerare il modo in cui interagisci con gli altri e soprattutto devi devo dobbiamo tutti in quanto umanità considerare i dati della tradizione che ancora non abbiamo sviluppato tanto quanto serve che ancora non abbiamo adattato a quest'epoca di cambiamento perché è vero cambia la superficie cambia la tecnologia ma la sostanza è sempre quella sopravvivere vivere in rapporto in rapporto a chi ecco questo è il punto non lo facciamo per noi stessi anche quando ti metti il visore della realtà virtuale aumentata allargata lo fai perché vuoi relazionare in qualche modo ti inventi dei paesaggi esatto allora il punto non è andare a trovare immagini curiose il punto è essere capaci di relazionare perché quando anche trovi le immagini curiose che ti appaiono come le usi come le investi è una questione di etica e di etica ha parlato la tradizione dobbiamo capire a che cosa serve l'etica cioè l'intenzione di disporre le risorse in modo che possiamo collettivamente usarle nel rispetto della vita nel rispetto di ciò che mantieni in vita rifletti su questi argomenti in particolare ti consiglio di leggere il passo a pagina 42 di questo importantissimo libro intitolato osserva capisci agisci volume 5 con le domande di come la vita quando ti sorride sì le domande perché le domande che ti pongo ti mettono davanti ai fatti ti invitano alla verifica e ti fanno capire che puoi innalzare la qualità della tua esistenza se ragioni in modo etico grazie a tutti grazie a tutti